Per vostra stessa conferma, dunque, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà. Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se adesso il consenso mancasse. Questo video è stato realizzato con il contributo fondamentale del nostro partner NordVPN. Nel link che trovate in descrizione al video troverete un'offerta esclusiva riservata agli iscritti di Dentro la Storia. Seguite il video fino alla fine per scoprirne i dettagli. Siamo nell'anno 2024 e, come in ogni anno, si guarda al passato, si guarda agli anniversari, magari a quelli in tripla cifa, i centenari. Il 2024, tra gli altri, rappresenta anche l'anno del centenario, del rapimento, dell'uccisione di Giacomo Matteotti. Alla sua figura, al suo impegno, a ciò che avvenne, anche alla luce di clamorose rivelazioni che sono emerse grazie al lavoro di grandi storici e di persone qualificate nell'ambiente. Dedichiamo questo video perché nel centesimo anniversario di quel fatto cruento non si dimentichi mai quale sia il forte, fortissimo valore della democrazia e della libertà. Perché, come diceva Sandro Bertini, la più imperfetta delle democrazie è sempre preferibile alla più perfetta delle dittature. Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me. La nostra storia si apre il 30 maggio del 2024. Siamo a Montecitorio, camera bassa del Parlamento italiano e c'è un deputato che ha chiesto la parola e le sue parole suonano come lame di fuoco. Cosa dice quel deputato? Ve lo riporto. Dice, l'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida. È una denuncia forte, vibrante, lucida. La voce è perfettamente calma. Non ci sono increspature emozionali. Attorno alla bagarra urla, proteste. Qualcuno abbandona i propri banchi per attraversare tutto l'emiciclo con intenzioni bellicose, vuol farsi giustizia da sé, vuol menare le mani. Incurante di tutto quel caos. L'oratore prosegue. Nessun elettore italiano si è ritrovato libero di decidere con la propria volontà. Ve lo ripeto. Nessun elettore italiano si è ritrovato libero di decidere con la propria volontà. Sono parole pesanti, seguite da accuse circostanziate. Queste. Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo, con la forza, anche se a tal governo il consenso mancasse. È una denuncia chiara, incontrovertibile. La democrazia sta già morendo e quella voce si leva per tentare di scuotere, di illuminare le coscienze. Purtroppo quella voce resterà isolata. Come abbiamo detto è il 30 maggio del 1924. Una data che resta scolpita nella storia. Giacomo Matteotti, è lui che ha parlato, deputato del Partito Socialista Unitario. Si era registrato quel giorno per il suo intervento. Non è un deputato qualunque, Matteotti. È prima di tutto un uomo di santi principi. Anni prima ha subito il confino di pulizia in Sicilia per aver contestato l'impegno dell'Italia, del regno d'Italia, a fianco dell'intesa nella Grande Guerra. È un pacifista, Matteotti. Non crede che le questioni internazionali debbano essere risolte con la forza e, peggio ancora, con le aree. Matteotti è molto di più. Matteotti per tutto ciò ha dovuto pagare perché nell'ottobre del 1922 è stato espulso dal PSI, assieme all'intera corrente cappeggiata da Filippo Turati. È affondato, proprio con Turati, il PSU, il Partito Socialista Unitario. Matteotti è sagace, è preparato, ha una chiara visione cosmopolita. Viaggia molto, ha rapporti con gli ambienti inglesi, con le labor party. Nel suo partito lo sopportano a malapena in pochi. Lo chiamano il social milionario perché la famiglia da cui proviene è agiata. Gramsci, che non è esattamente un amico, anzi un avversario, lo definisce un pellegrino del nulla perché, secondo lui, non è destinato a smuovere granché le masse e tanto meno le coscienze. Ma c'è qualcuno che ama Matteotti. Lo amano gli ultimi, i bisognosi, i meno fortunati, gli oppressi, i contadini che fanno fatica nei campi e non solo. Gli oppressi dal fenomeno del latifondo. L'Italia all'inizio degli anni venti è una società ancora molto, molto, molto agricola. È una società in cui si muore ancora di fame. Matteotti lotta per loro, ma anche per i propri affetti. Ha un rapporto speciale con la moglie, Velia. Immaginate, lei religiosissima. Lui invece è ateo convinto, al punto di aver portato allo spinimento la sua futura sposa, che voleva assolutamente celebrare le nozze in chiesa, convincendola alla fine a optare per il matrimonio civile. Le dice, vedrai, saremmo felici lo stesso. E lei accetta. Come abbiamo detto, Matteotti frequenta ambienti inglesi e grazie alle informazioni che raccoglie, perché è molto abile nell'ottenere documenti e varie informazioni in giro, subodora immediatamente lo strisciante pericolo fascista che si manifesta in tanti modi diversi. Le intimidazioni, i pestacci, le squadracce, i roghi delle case del lavoro. L'Italia all'inizio degli anni venti è precipitata in una spirale di violenza. E all'interno di questa spirale i fascisti rispondono in maniera brutale agli scioperi nelle fabbriche e alle rivendicazioni dei braccianti che tornati a casa della guerra. Chiedono terra da lavorare e la fila del latifondo. In ballo c'è una chiara riforma della società, che però diversi settori della società stessa osteggiano. Non sono d'accordo ovviamente i latifondisti, i grandi proprietari terrieri. Non sono d'accordo gli esponenti della nobeltà di Corona. Non sono d'accordo i grandi industriali che con la guerra si sono arricchiti. Matteotti si fa portavoce delle richieste degli ultimi. Scrive nei discorsi, denuncia le tante strutture di un paese che è unito, almeno de jure, ma nei fatti è ancora spaccato in tanti livelli diversi di umanità. Ad accorgersi di quell'attivismo non sono solo i compagni di partito o gli accademici stranieri. Soprattutto sono gli avversari politici e non solo Gramsci che tutto sommato non va oltre quelle parole. Parliamo ad esempio di Faridacci che insulta Matteotti. Lo provoca. Mussolini, Benito Mussolini, resta in silenzio ma capisce quando ascolta Matteotti che l'opposizione al suo governo forse ha una carta vincente in mano ed è rappresentata proprio da quel deputato Polesano. Matteotti raccoglie documenti, l'abbiamo detto, è ben informato, non cede alla semplice retorica. Nei suoi discorsi, in cui si mantiene sempre molto asciutto, anche nel toro di voce, elenca fatti, violazioni, violenze, denude alla strisciante dittatura che piano piano sta prendendo i vari gangli dello Stato, mostrandone il vero volto, quello della prevaricazione. Anche se la mozione per una revisione parziale delle elezioni viene respinta, la denuncia di Matteotti non è caduta nel vuoto. Lo sanno i compagni di partito, lo sanno gli altri esponenti delle opposizioni, che alla fine di quell'esposizione. Si complimentano con lui. Lo sanno i fascisti, che già pensano a come rispondergli. Lo sa Matteotti, sì, lo sa anche lui, che finito l'intervento, pronuncia una frase terribile ma veritiera, rivolta a chi lo circonda. Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. Matteotti sa di cosa siano capaci i fascisti. La sua famiglia è di Fratta Polesine, provincia di Rovigo, e lui stesso è stato eletto nel collegio del Polesine, che raggruppa l'area di Rovigo e di Ferrara. Quella zona è la riserva di caccia di Italo Balbo. Lo abbiamo già incontrato noi del canale Dentro la Storia. Trovate il video all'interno del canale. Quadrumbiro, ex-repubblicano, futuro nome tutelare dell'aviazione, destinato a diventare eroe della trasvolata e governatore della Libia. Balbo è furbo, è intelligente, manesco, decisionista. Non perde tempo in chiacchiere. Terrorizza mezza Ravenna come reazione all'uccisione di un simpatizzante fascista all'interno di un moto di piazza. Spedisce le sue squadracce a intimidire i questori e i prefetti della zona, ottenendo tutto ciò che vuole. Arriva persino a ordinare l'omicidio di un prete, Don Minzoni, che sarà opposto alla prospettiva di affidare ai fascisti l'educazione dei giovani della bassa. Matteotti non si fa illusioni sui metodi fascisti. Anzi, col tempo ha raccolto prove schiaccianti di un brutto affare di tangenti. Già, perché le tangenti non le hanno inventate nel secondo dopoguerra. C'erano già prima. C'erano molto prima. C'erano già negli anni venti. I documenti in mano al politico socialista unitario raccontano di un giro di soldi neri legati alle concessioni petrolifere dell'americana Standard Oil. Fondi non ufficiali che sono finiti nelle tasche dei capi del fascismo, ma non dei capi locali, neanche di uno come Balbo, direttamente al vertice. Parte di quei soldi sono finiti direttamente nelle disponibilità di Benito Mussolini. Matteotti quei documenti li tiene stretti con sé e sa che pagherà caro quello che Mussolini stesso ritiene essere un affronto personale, tanto da preannunciare una risposta dura dalle pagine dell'organo di stampa del partito. Quell'uomo non dovrebbe più circolare con tanto di punto esclamativo finale. Questo scrive il futuro dittatore. Questo dice dialogando con i vertici della polizia politica. Beh, non dovrà attendere molto per essere accontentato. La vendetta nera si manifesta 11 giorni dopo, ma è stata preparata nei minimi dettagli perché tra il 22 maggio e il 30, il giorno del discorso in Parlamento, ci sono state pari riunioni all'hotel Dragoni a Roma, un locale che non esiste più, si trovava in Largo Chigi. A quelle riunioni era presente un poliziotto che ha radunato attorno a sé una squadra di intervento, con un piano preciso a contentare il desiderato del futuro dittatore. Passiamo al pomeriggio del 10 giugno 1924. Sono passati 11 giorni dal discorso in Parlamento. Giacomo Matteotti esce di casa a Roma, deve andare a Montecitorio e inizialmente parte a piedi, però dopo un po' decide di andare ad aspettare il drama. Fa caldo, ne state le porte. Dopo quel discorso, la squadraccia è pronta ad agire. Ha già compiuto diversi sopralluoghi, proprio a turno all'abitazione del deputato. Si è notata i suoi movimenti, gli orari, le abitudini. Insomma, la squadra sa come, quando e dove colpire. Ed è proprio in quel tratto di strada, tra l'appartamento di Matteotti e Montecitorio, che una vettura con a bordo cinque membri della polizia politica tende un agguato a Matteotti, mentre è vicino alla fermata del tram. I cinque a bordo gli saltano addosso, lo immobilizzano, lo caricano di peso in macchina. Matteotti non è certo un energumeno, però cerca di non farsi sopraffare. Lotta, si divincola, scalcia. Quando viene portato all'interno della lancia lambda, riesce a gettare il suo tesserino da parlamentare dal finestrino. Dentro l'auto è un vero e proprio inferno, un parapiglia. Alla fine uno dei rapitori estrae un coltello a seramanico e colpisce due volte, al fianco e al torace. Matteotti entra in agonia. David lo abbandona nel giro di tre terribili ore. Con le coltellate lo hanno colpito poco sotto il cuore. Hanno preso un organo vitale. Presi dal panico, i suoi assassini iniziano a girovagare lungo la campagna romana, sino a decidere per una sepoltura d'emergenza in un bosco alla quartarella prima di dileguarsi. Nei loro piani, inizialmente non era previsto l'omicidio in macchina. Il piano prevedeva il sequestro, le solite legnate e, in caso estremo, sì, l'uccisione, ma in un luogo appartato, non in auto, non in quel modo. Matteotti scompare. Nessuno ha più sue notizie. L'assenza viene notata solo 24 ore dopo, mentre le indagini sono già partite. Qualcuno aveva notato l'automobile sospetta e aveva comunicato il numero di targa alla magistratura. E sapete cosa porta quel numero di targa? A un lobbista, tale Filippo Filippelli, un nome che a molti di voi magari non dirà nulla. Ma Filippelli è il factotum di Arnaldo Mussolini, fratello di Benito. E' stato proprio Filippelli, appunto, a noleggiare quella lancia lambda, firmando il contratto, dando come riferimento addirittura gli uffici del Viminale, gli uffici del Ministero degli Affari Interni. E' il contorno ideale di uno scandalo epocale. Ma il clima politico peggiora di giorno in giorno. Si inizia a parlare di connivenza da parte del governo, di insambiamenti. Nulla di più vero. Già la sera dell'11 giugno, Benito Mussolini viene informato dell'omicidio e quando una settimana dopo il magistrato del giudice, che sta indagando, individua gli assassini, è lo stesso capo del governo a intervenire per insappiare tutto, per spingere gli investigatori alle dimissioni e forzare il pensionamento di un inquirente ritenuto troppo zelatte, troppo fastidioso. I deputati dell'opposizione, per protesta, optano per quella che verrà chiamata la strategia dell'Aventino, ossia si ritirano dalla Camera e si rifiutano di approvare le leggi fasciste, tra cui le nuove misure restrittive per la stampa. Il caso Matteotti è emblematico. Ormai nessuno si ilude di ritrovare il socialista vivo e vegeto. Un gerarca come Farinacci si offre persino come avvocato difensore per il primo sospettato, il poliziotto Amerigo Dumini, che del giudice aveva già accusato di guidare la squadra omicida. Sì, era stato proprio Dumini a convocare quelle riunioni dal 22 al 30 maggio del 1924. Era stato lui a convocare gli altri componenti della squadraccia. Era stato lui a ordinare di perlustrare la strada tra l'abitazione di Matteotti e Montecitorio. Tutto era stato organizzato per tempo. L'unico imprevisto era stata la reazione di Matteotti. Non era prevista. I resti di Giacomo e Matteotti vengono rivenuti soltanto il 16 agosto. Il cadavere è irriconoscibile. È necessaria una perizia odontoiatrica per aver conferma dell'identità del corpo. Gli addetti mortuari devono indossare dei fazzoletti per coprirsi dal terribile odore di un corpo che va in decomposizione nel caldo della campagna romana. Viene portato via ciò che resta di Giacomo e Matteotti. I politici che gli erano stati vicino, anche gli avversari ma sempre dell'opposizione, capiscono che l'omicidio è un passo da cui non si torna più indietro. Mussolini fa di tutto per evitare che quella scoperta possa aumentare lo sdegno del paese. I funerali vengono autorizzati ma solo a fratta Polesi e vengono sorvegliati dalla polizia. La vedova di Matteotti diffida tanto il partito quanto i suoi organi, cominciare dalla milizia, a inviare rappresentanti. Non li vuole, alle esegue, nemmeno in borghese. Non vuole la pietà pelosa o peggio ancora l'ipocrisia. Seguiranno dei processi, processi farsa, imbastiti in maniera così grossolana da provocare imbarazzo, mentre Mussolini si assumerà la piena responsabilità dell'accaduto, soltanto il 3 gennaio del 1925, con un famoso discorso, il discorso che preannuncia l'avvio della dittatura. Nasce così la dittatura nel nostro paese, con l'uccisione di un parlamentare, con le farse, con gli sabbiamenti e poi con una tardiva ammissione di responsabilità, ma senza che nessuno faccia nulla. Pensa di aver vinto in quel caso Mussolini. Pensa che ormai il più sia stato fatto, ma non sa che quelle parole di Matteotti hanno gettato dei semi pronti a germogliare. Uccidete pure me, aveva detto Matteotti, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai. Lo dimostreranno i fuoriusciti, che si riorganizzeranno in Francia e a Londra, cui i comitati clandestini, la resistenza culturale, successivamente ci sarà anche la resistenza politica e militare. I documenti raccolti da Matteotti, le prove delle tangenti, spariscono con lui, erano nella sua 24 ore, che non verrà mai ritrovata. Gli storici sono concordi nel pensare che siano stati distrutti quei documenti. Erano troppo imbarazzanti per l'entourage di Mussolini. avrebbero fatto morire il regime prima ancora che potesse pronunciare le prime parole. Quando nel marzo del 1937 a Guadalajara, in Spagna, le divisioni fasciste mandate da Mussolini ad aiutare Francisco Franco nel corso della guerra civile, mascherate da divisioni volontarie quando in realtà si tratta di militari di professione, vengono sconfitte sul campo da volontari veri, quelli delle brigate internazionali, al cui interno ci sono i fuoriusciti italiani del battaglione Garibaldi. Più di qualcuno, tra gli italiani, ma anche tra gli spagnoli, dice che questa è la prima vendetta per Giacomo Matteotti. Un nome che diventa, nel corso degli anni, un incubo per Mussolini, che lo ritroverà più avanti, dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, il ritorno degli altri partiti politici, l'8 settembre. Le formazioni di partigiane, alcune di queste verranno intitolate alla memoria di Matteotti. È una memoria lunga, ma che va preservata. Matteotti non avrebbe mai impugnato una pistola o un pugnale. Non credeva in questi metodi, anzi gli rifugiva. Matteotti credeva nella forza delle idee, nella democrazia, nella moderazione, nella necessità del dialogo e nell'onestà. Valori semplici che hanno portato avanti la sua lotta politica, fino a quella conclusione inaspettata, violenta, terribile. Quest'anno ricorrono appunto i cento anni da quei fatti. Noi del canale Dentro la Storia li ricordiamo, perché è bene portare avanti la memoria. È necessario che le nuove generazioni sappiano chi era Giacomo Matteotti, perché strade, vie, piazze vengono intitolate a lui. Era un italiano, Giacomo Matteotti era un politico, era un amante dell'onestà e della libertà. Era una persona che lottava per altri. Non ha potuto farlo fin in fuori. Ma se noi oggi lo ricordiamo, lo facciamo prima di tutto per evitare che la sua tragedia possa rivivere in altre forme e che quelle forme dittatoriali che lui combatteva possano ripresentarsi sotto nuove, magari più affascinanti, ma sempre, sempre, sempre le solite forme. Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai. Questo video è stato realizzato con il contributo fondamentale del nostro partner NordVPN. Il mondo NordVPN propone diversi vantaggi, a cominciare dall'accesso a contenuti streaming internazionali non disponibili nel nostro paese per blocchi di vario tipo, e poi una sicurezza migliorata. Su tutti i wifi pubblici, pensate a quelli degli aeroporti, delle stazioni e chiaramente degli hotel. Quindi l'ideare per chi viaggia. Ma molti si domanderanno perché devo pagare un servizio di VPN come NordVPN e non utilizzare una VPN gratuita. Uno dei modi principali in cui le VPN gratis guadagnano è attraverso la vendita dei vostri dati personali. A chi? Ai broker. Le aziende pubblicitarie acquistano poi questi dati per scoprire di più sulle abitudini d'acquisto degli utenti, così da rendere più efficaci le proprie campagne che vanno a vostro scapito. L'esatto contrario di NordVPN, che a un prezzo decisamente ragionevole, anzi molto, molto conveniente, vi dà la sicurezza di poter navigare in totale tranquillità al riparo da curiosi, da spioni, come a volte ne incrociamo nei nostri video, o da malintenzionati. Il nostro sponsor e sostenitore NordVPN vi propone una grandiosa offerta. Per aderire basta cliccare sul link che trovate qui sotto o in descrizione del video e prevede uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali, sempre con la solita forma. 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsate. Beh, cosa volete di più?